Terra Amara Anticipazioni Dopo un rapimento, la dottoressa Mujgan rifiuta la proposta di matrimonio di Yilmars. Prima di iniziare il racconto, devo darvi una bellissima notizia, per quanto riguarda il palinsesto di questo mese. Da metà dicembre, la programmazione di Canale 5 quest'anno non sarà sostituita dai classici film natalizi. A quanto pare Mediaset ha scelto di puntare tutto sulla sop'opera Terra Amara. Di conseguenza, da metà dicembre in poi, noi spettatori e appassionati di questa serie, avremo la possibilità di seguire le doppie puntate, la quale sarà trasmessa nello slot orario che va dalle 14.10 alle 16 circa, dal lunedì al sabato. Fatemi sapere cosa ne pensate con un commento, e non dimenticare di lasciare subito un like di supporto al canale. Adesso cominciamo! La proposta di matrimonio, che Yilmars farà alla bella dottoressa, non avrà un lieto fine. La presenza fissa di Yilmars, a casa della sua nuova fidanzata, faranno nascere dei pettegolezzi che potrebbero mettere in cattiva luce la reputazione della nuova arrivata. Sebbene Yilmars abbia deciso di non rivelare, che Zuleya è la donna, per la quale era finito in carcere, seguendo il consiglio di Fekeli. Il giovane capirà che per mettere a tacere le chiacchiere nel paese dovrebbe chiedere alla donna di sposarlo, perciò quella sera è intenzionato a fare il gran passo, pertanto organizza una serata romantica con lei. Mujgan sta per andare all'incontro con Akaia, tuttavia un imprevisto gli ha impedito di arrivare. Due uomini si sono presentati a casa sua e l'hanno costretta a salire su un'auto. Nel frattempo Yilmars è nel luogo di incontro. Si preoccupa molto quando la donna non arriva. Lui non esita a cercare informazioni su cosa può essere successo alla nuova fiamma. Il due criminale che hanno portato via il dottore arrivano in un capannone. In quel momento svelano alla giovane della difficile sfida che deve affrontare. La dottoressa deve salvare la vita di un uomo in condizioni critiche e se non lo fa morirà anche lei. Nel tentativo di far capire loro che quest'uomo che è ormai in fin di vita deve andare in ospedale, uno di loro la minaccia puntandogli contro una pistola. Tuttavia questi due criminale si era imbattuto in Demir durante il tragitto, il quale gli racconterà a Sabatin di aver visto Mujgan in auto con due strani individui mentre lui accompagnava sua madre in ospedale. Il marito di Shermim racconta a Yilmaz ciò che le ha raccontato Demir. L'imprenditore si insospettisce subito, andando immediatamente a cercare la fidanzata. Akkaia fortunatamente arriva in tempo, riuscendo a salvarla dall'ira di uno dei criminali, deciso ad ucciderla per non essere riuscita a curare le ferite del suo parente. Dopo questa situazione a dir poco drammatica, quella notte, Yilmaz la inviterà a trascorrere qualche giorno a casa di Fekele. La notizia del rapimento uscirà su giornale, ad Adana non si parlerà d'altro, l'ex di Zuleya sarà considerato un eroe, diventando così motivo di conversazione nella comunità di Shukurova. Yilmaz era determinato a fare la proposta a Mujgan, ma tutto è andato storto. Tuttavia questo non significa che non glielo chiederebbe più. Determinato a conquistarla, il giorno successivo, le chiederà di diventare sua moglie. Yilmaz tira fuori un prezioso anello e la implora di sposarlo. Purtroppo la donna, crede che la sua ferita sia ancora aperta e non accetterà, perciò rifiuta la proposta di matrimonio del giovane. Akaiya spiega che vuole condividere con lei il resto dei suoi giorni, aggiunge inoltre che grazie a lei, la sua vita ha di nuovo un senso. In poche parole romantiche, il giovane si è dichiarato al dottore e le ha regalato una scatola con un anello prezioso. Mujgan all'inizio avrà difficoltà in trovare le parole giuste da dire, ma dopo averle detto che lui gli piace molto, lascerà il terrificante ma, poi aggiunge. Credo che la ferita del tuo amore precedente non sia ancora guarita, e fino a quando non lo farà, non riceverò quell'anello, mi dispiace. Questo non significa che tu non mi piaccia, voglio soltanto avere la certezza che tuo cuore sia pronto per farmi entrare. In poche parole la dottoressa pretenderà che lui le dia maggiori certezze sui sentimenti che prova per lei. Pertanto, la proposta di matrimonio di Yilmaz e Mujgan non avrà un lieto fine. Come reagirà Yilmaz di fronte a questo rifiuto? Le anticipazioni terminano qui, per non perdere altri video iscriviti al canale.